Eeeh, bella a tutti ragazzi, bentornati in un mio nuovissimo video, sono Superjack001 e in questo video siamo su Paladins Paladins è un gioco che mi piace molto, l'ho scoperto da poco quindi sono un poco scarso ma fa niente Eeeh, come avevo già detto in precedenza, ho deciso di non portare più solo video su Fortnite ma di variare in altri giochi Quindi spero vi possa piacere, se questo gioco vi piace lasciate un bel like e iscrivetevi e vi lascio al video, buona visione Adesso mettiamo la verità E per chi non conosce il gioco ve lo spiego un attimo, ho messo una modalità dove praticamente vince la squadra che fa più kill Per la prima squadra che arriva a 40 kill mi sembra che sia Non sono forte per niente, non ci gioco mai, faccio abbastanza schifo Però vediamo di fare qualcosa E' un gioco un po' particolare perché non sempre se... c'è diverso da tanti altri giochi Però adesso devo anche traiardare quando vedo le persone quindi starò anche un po' in silenzio Primo sangue, ok, hanno già ucciso qualcuno Ecco io mi sono già perso, perfetto Che cavolo è oggi? Ragazzi ne approfitto in questo momento che stavo traiardando Prima di tutto vi dico che se non parlo, come avevo detto prima perché stavo traiardando e mi stava prendendo di brutto il gioco E vi volevo dire che la prossima volta cercherò di diciamo rendere migliore la qualità della voce Perché ho notato che comunque adesso che sto ritando, visto che sono un super gioco del futuro, la qualità della voce fa un poco schifo Vi lascio al video, buona visione Mi serve di brutto il fuoco, ok Ehi ma c'è pieno di cinta, non c'è neanche un alleato da me, niente Questa cosa non mi è piaciuta raga, non c'era nessuno da aiutarmi, non mi è piaciuta sta cosa Ok, lancio Oh, mi sono andato tutti a fuoco, ho fatto una strada No, 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 qua c'è lungente Addio Ok No, qua c'è uno Ma io sto sparando a caso raga, non capisco niente Ok, ora mi devo prendermi, no, lì c'è un tipo Ok Oh, la verità speciale è questa qui raga, quando c'è un po' di gente mo la uso Qua Dai Dai che faccio una strage No, niente, è già finita la verità speciale, andiamo a caschi Ok, ho lanciato il fuoco, mi farò un secondo Ok Prendiamoci dell'abilità, non posso No, 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 è più di gente Se ne torniamo in dire Settecento a uno, dai Aia Ok Dai Ok, ho ucciso un altro Ok Raga, sto tryhardando Scusate se non farlo, ma Non so, tryhard e il gioco di elemental, però Sono scarso, lo vedete anche io Ok, ho lanciato il fuoco E li ho presi, no Ho visto malissimo Dai che... Ma ci sono questi? Aia ma, parano tutti a me Ok Non mi copro che mi cuore Ok Oh Niente, cioè No, 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 no Qua muoio malissimo Qua muoio malissimo Scappo in Messico Lancio il fuoco Non ne ho presi, sono scarso Aspetta Abilità speciale Niente, abbiamo vinto Vabbè, dai Non è male Facciamo un'altra partita Raga Poi scrivetemi se vi piace questo gioco A me piace abbastanza Devo dire Mi gusta particolarmente Ok Ci vediamo Alla prossima Anzi no Prima Vediamo i miei risultati Nì Vabbè Non è che abbia fatto Tutto sto danno Ok Stiamo per iniziare La seconda partita Ovviamente Le partite non durano Moltissimo Quindi tecnicamente Se va come quella di prima Potremmo farne anche Due in un video Forse anche tre Poi vediamo Poi volevo Anzi Iscrivetemi nei commenti Se volete altri giochi Perché io avevo pensato Per dire Magari Non so Se Atleth Royale Poi potrei fare Roblox Di GTA 5 Vabbè C'ho anche Batman Però raga Batman è un po' Difficile da portare In video Arkham Knight Comunque Se mi interessa Vabbè Minecraft Già l'ho portato Ho anche Slime Rancher Volendo Però non so Se è sto Gran gioco Vabbè Comunque Ho un po' di giochi Ditemi voi Cosa vorreste vedere Magari io Qualche gioco Riesco a portarvelo E ovviamente Mettete un bel like Se il video vi sta piacendo Iscrivetevi Se siete nuovi Questi sono i miei alleati Aia no Dai non erano i miei alleati Per combattere Ok Ho ucciso Devo curarmi Devo curarmi Devo curarmi No 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 Via 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 Vado in Messico Scappo in Messico Mi devo curare Ok Sto qua Dai 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 Dove sta Ok Ho dato fuoco Mi sono dato fuoco da solo Sono stupido Ho dato fuoco un po' a tutti Allora Oh questo Ho ucciso vai No Maledetta No 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 Qua muoio Qua muoio Qua muoio malissimo Però ho dato fuoco a tutti Sono un piromone Abbiamo capito Ma ce l'ho dato solo Quel fuoco Aspetta Fuoco lì Preso No Dov'è Ho distrutto Dov'è No 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 Vedo l'arrivo Raga Io sto stupendo Non vedo la gente Ok Ok Ucciso Fuoco lì No L'ho missato Oh L'ho preso Vanissimo No si è curato Maledetto Dai Mori No non devo morirci Però Spermi il curo Ok lì Dai Ok L'ho tirato bene Il fuoco stavolta Oh ok Ho ucciso anche quello No Ok ho ucciso Double kill Ragazzi L'ho aumentato Incredibile Fortissimo Allora No no scherzo Però dai Non si stava No Non vediamo Lì Mi metto in un angolo Ok Dov'è Fuoco No mia Sono un piromale Ok Questa Ok qua faccio la strage Aspetta Dov'è Dov'è Non vedo niente Raga Ok ho ucciso Oh raga Sto facendo una strage Comunque Io non vorrei dire No 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 Muoio qua muoio Qua ci muoio Ci muoio malissimo Se non mi cuore Dai curati No niente Ci sta Dai ci sta Ci sta Ok Brutto di questo Versaggio Cioè Opinione Versaggio Solo che non corre Cioè Deve cammini E basta Ok Lì Fuoco No dai Mi ha tirato Malissimo L'ho distrutto Ucciso uno Aia Ma da dove Ucciso Dai È un hit Oh mio dio Ok ho ucciso No 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 Via 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 No No ti lancio il fuoco Prima di morire Vabbè Gozo Ho 21 di vita Raga Oh my god Devo curarmi Curati 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 Gozo Maledetto Oh non ho tirato il fuoco Però lo stocco l'ho tirato Raga Questa dura un po' di più di partita Ma mi sta piacendo un bot Dove niente Qua ho tirato per sbaglio Non ho il granato Dov'è che è? Maledetto Ok ho ucciso Raga A me se gioco piace un sacco Non so Dai Ha pochissima vita Ok ucciso Dai Maledetti Fumosa Ok ho ucciso Ho la verità speciale Dai Mori E abbiamo vinto Qua secondo me Sono stato il più forte Vediamo Dai come la sono giocata bene Raga Non devo neanche tagliare tanto In sti video Se vi piacciono E spero di si Potrei portarne altri Anche perché Non penso di dover tagliare tanto Vediamo un attimo Ma come sono 25 milioni di danno Dai Avevo fatto il devasto Pensavo E niente Vabbè dai però Però non ho fatto Quante kill ho fatto C'è scritto No mi dice solo due multi kill Però non mi dice quante kill ho fatto Ma io non so secondo me Però non ho fatto schifissimo Cioè dai Alla fine Ho fatto Però mi sa che sia stato il secondo Perché se guardate i soldi guadagnati Sono il secondo Anche se non sono quello che ha fatto Poi danno Però mi è piaciuto Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi E ci vediamo al prossimo video E bella a tutti Ciao ragazzi Il prossimo video è domenica Alle 17 Bella a tutti